In tutto l'Abruzzo c'è una grandissima capacità che i nostri amministratori sanno esprimere, quindi noi siamo molto fieri ed orgogliosi di quella che è la classe dirigente di Forza Italia su questo territorio e dico ai militanti di osservare il lavoro dei nostri amministratori e probabilmente di seguirne anche l'esempio, perché davvero si può soltanto crescere. Così la senatrice Licia Ronzulli, responsabile nazionale di Forza Italia per i rapporti con gli alleati che oggi a Pescara ha incontrato parlamentari, amministratori regionali e comunali eletti nelle liste del partito di Silvio Berlusconi. Forza Italia è pronta ad affrontare i prossimi appuntamenti elettorali e sta lavorando a livello nazionale alla creazione di una federazione di centrodestra, ha evidenziato la senatrice Ronzulli. Uniti possiamo vincere, ha detto il senatore Nazario Pagano, coordinatore regionale di Forza Italia. Stiamo organizzando con i nostri dirigenti locali e ovviamente innanzitutto nei comuni a doppio turno, cioè i cinque comuni che tornano al voto, Vasto, Lanciano, Francavilla, Almare, Roseto e Sulmona, perché lì vogliamo presentarci con liste, con il nostro simbolo. Avremo anche dei candidati sindaco che ovviamente scegliamo insieme ai nostri alleati, innanzitutto con Fratelli d'Italia e con la Lega e naturalmente anche con gli altri soggetti politici che comunque sono alleati del centrodestra. Abbiamo ovviamente intenzione di essere competitivi e di vincere e quindi faremo sicuramente liste molto prestigiose insieme ai nostri alleati.